attenzione dal 3 all'11 dicembre ritornano a villa tiene di quinto vicentino le installazioni fotografiche di antonio magazzino ritorna vicenza città bellissima vicenza città bellissima una città palcoscenico in simmetrie colorate inaugurazione sabato 3 dicembre alle ore 16 con interventi critici di marifulvia mateazzi alberti e marco vaccaro se ami l'arte il gusto per il bello non perdere vicenza città bellissima antonio magazzino ti aspetta dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 18 dal 3 all'11 dicembre in villa tiene a quinto vicentino grazie a tutti